Questo è il cameraman più stabile che esista, usando i pattini per ridurre i tremolini. Ma il risultato finale del video è ancora più assurdo. Guardate come va in giro senza sforzo per il campo da basket con i suoi pattini senza problemi. E guardate come è fluido il video che ha fatto.